Ciao, mi chiamo Azura Ruggero, ho 18 anni e vivo a Bracciano, in provincia di Roma. Sono all'ultimo anno del liceo linguistico e le lingue che studio sono l'inglese, il francese e il tedesco. Le lingue mi piacciono molto, ma la mia più grande passione nella vita è la recitazione, che studio da circa 4 anni e che credo mi piaccia così tanto perché penso che non ci sia nulla di più bello di riuscire a vivere tante vite e di riuscire a fare esperienza di tante emozioni e sentimenti diversi. Mi piace molto anche la musica, mi piace molto ballare e quando ero più piccolina ho praticato per molti anni danza classica e attualmente me la cavo abbastanza bene con la danza contemporanea. La mia agenzia è la Cantena Management e se mi dovessi descrivere, mi descriverei come una ragazza molto determinata, solare e seria. I miei due profili sono questi qui. Penso di aver detto tutto, quindi ciao!